Come ci si toglie dall'inghippo di avere questa ripetizione così frequente. Andiamo un pochino qua sotto, ci prendiamo un po' di spazio in modo da avere più schermo possibile e andiamo a vedere in che modo si ottiene questo risultato. Ovvero utilizzando quelli che sono chiamati i type aliases in inglese. L'alias, diciamo che gli si dà a un type specifico, si va ad assegnare un alias, un suo nome, per ricondurlo a quel punto. Come si fa? Si utilizza la parola chiave type seguita dal nome che vogliamo andare a dare al nostro type. Per convenzione si preferisce utilizzare la lettera maiuscola, quindi si va a dire ad esempio in questo caso user e si va a dire che user è di tipo nome stringa, cognome stringa, is paid boolean e generalmente per la nostra applicazione è sufficiente ma noi vogliamo anche avere quello che è il valore di mail che diciamo che sarà proprio una. Stringanzi al momento non teniamoci la nostra mail. Ecco che se io andassi a questo punto a riscrivere la nostra funzione create user che ce la prendiamo qua e la chiamiamo create user v2, andiamo a dire che lui qua non accetterà più questa agonia infinita ma vorrà semplicemente user come type. Anche qua noi vogliamo che restituisca quello che è uno user. Perfetto. Ora nella nostra applicazione funziona tutto esattamente come prima, un pochino più compatto, un pochino più bellino e soprattutto riutilizzabile e un pochino più comodo. Ecco, a questo punto se io andassi a replicare questo tipo di scrittura con create user v2 anche in questo caso non avrei nessun problema. Quindi questo, importante dirlo, non è che va a risolvere quello che è il nostro problema in cui andiamo a passare quello che è il valore di Anna. Potremmo risolverlo se passassimo qua quello che è il valore di user. Passando qua il valore di user, anche in questo punto, noi ci rendiamo conto che abbiamo una props di troppo che non è necessaria e allora ci viene causato il nostro errore a priori però prima di andare a giocare con la nostra funzione. Ecco come possiamo andare a fare un po' di salvaguardia sul nostro codice. Ma appunto, mettiamo caso che noi volessimo andare a utilizzare anche il type di mail. Però non tutti gli user magari hanno una mail. Come possiamo andare a risolvere questo problema? Facciamo che ci portiamo sotto, anzi sopra, questo user, così che ce l'abbiamo in cima, effettivamente a quella che è la nostra... Anzi, rimaniamo qua sotto, poi scrivono tutte le cose qua sotto, sto impazzionato un attimo a fare questa cosa perché non riesco a capire dove andarlo a posizionare. Se ne volessimo avere quella che è, e ci creiamo un nuovo user qua sotto, facciamo così. Non sarei tipo user, ma avremo user 2. User 2, perfetto. Se io appunto volessi avere questo campo, ma non tutti ce l'hanno, posso andare a utilizzarlo. Quindi posso andare a dire che esiste mail, che punto interrogativo, due punti, e una stringa. Questo vuol dire che questo type può esistere come non esistere. E infatti adesso user 2 non piange più perché lui ce l'ha, ma se creasse appunto user 3, user 3, ecco che non avesse la mail, ecco che non avrei nessun problema. Quindi questo ci garantisce anche di avere un pochino più di flessibilità all'interno dei nostri types. Ora, esistono altre tipologie di types che possiamo andare a utilizzare, altri modi con cui possiamo interagire con i nostri types. Ed è quello di andare a dire che magari abbiamo questo campo che si chiama ID, che esiste sempre. Anzi, ci andiamo a creare quello che è un altro type, che è, lo chiameremo il type Logged user, utente, un po' di italiano, registrato. Utente registrato sarà identico a quello che è il nostro user, quindi avremo nome, cognome, Spade e la mail, che sarà in questo caso opzionale, e in più si può portare dietro a quello che è il valore di un ID, che sarà obbligatorio, ma sarà a sua volta di type, ridonli. Non si è nemmeno una lettera. Ok, ridonli. Ora diciamo che il nostro createUserV2 verrà rinominato e si chiamerà appunto createRegisterUser e appunto accetterà uno user e ritornerà quello che è un utente registrato. Ora, questo cosa vuol dire? Che il nostro utente registrato, che è la nostra funzione, deve ritornare quello che è appunto un return in cui abbiamo ID, che può essere tranquillamente maf.randomToString66, subString7, una cosa completamente a caso, e poi si porterà dietro quello che è il valore di nome, il cognome e il Spade. A questo punto il nostro utente registrato avrà questo tipo di comportamento. e quello che noi non potremo fare poi successivamente, se io avessi ad esempio il mio user4 che vado a creare, quindi adesso è un utente registrato, se io volessi dire che user4.id è uguale a questo valore, otterrò un errore. Perché? Perché è una proprietà ridonli. Quindi vado a dire al mio codice che questo valore può solo essere letto, quindi lo posso solo appunto andare a stampare, mostrare, ma non posso andarlo a modificare, perché è un campo che non deve essere mai modificato. Ok? Quindi abbiamo anche questo tipo di dicitura all'interno dei nostri types. Ovviamente posso fare types di ogni tipo esistente, quindi posso anche andare a dire che esiste type mystring e dire che è uguale a string. Ovviamente questa cosa non sta né in cielo né in terra, ovviamente, non esiste. Però, però, lo posso fare. Adesso posso utilizzare mystring come effettivamente type al posto di utilizzare string. Io qua posso andare a dire mystring. Mystring, ad esempio. E tutto comunque funziona esattamente bene come prima. L'errore rimane questo, per il resto tutto funziona bene, ok? Quindi posso fare veramente qualsiasi cosa. Sono io che vado a riassegnare con un nome mio che mi piace a un type, un valore.